Sono tanti, per qualcuno pure troppi, al netto di un rischio chiamato frammentazione dell'elettorato e quindi dei voti. Cambiano i tempi e in parte pure le generazioni, eppure in vista delle regionali puliesi di primavera, Francavilla Fontana potrebbe esprimere un numero di candidati al Consiglio regionale da record. Nulla di ufficiale, si intende, solo un totonomi che mescola sensazioni, voci e legittime aspirazioni. In primis, quelle dell'ex sindaco Maurizio Bruno, dato in pole position per il Partito Democratico, al fianco di Michele Emiliano. Nella stessa coalizione, dovrebbe far parte anche un nome, espressione dell'amministrazione. Qualcuno dice un esterno, più probabile che si tratti di un assessore, ancora più probabile in questo caso che si tratti di un'assessora. Iurlaro Passaro Angelotti, in ordine casuale, o forse no. Che sia al fianco del governatore uscente o della ministra Bellanova, della partita potrebbe far parte anche l'ex PD Nicola Cavallo, oggi in Consiglio Comunale con Italia Viva. Se ne sta discutendo non è un mistero, ma il Renziano avrebbe posto alcune condizioni ben precise. Più complessa la situazione all'interno di azione, il movimento dell'ex ministro Calenda. I referenti cittadini sono in attesa di conoscere il nome del candidato presidente, al netto di una serie analisi sulla paventata scelta di correre da soli. Insomma, si vedrà con gli ex PD Zecchino e Pappadà che scrutano con attenzione l'evolversi della situazione. Fronte centro-destra, il nome più gettonato è quello di Adriana Balestra per la Lega Salvini, a prescindere da candidato presidente, il cui nome invece potrebbe muovere pedine diverse sullo scacchiere. In Forza Italia si fa quello di Giovanni Taurisano, ex di Emiliano, ma anche candidato sindaco per la coalizione moderata alle scorse amministrative. Impossibile pure lasciare fuori dal roster di papabili Antonio Andrisano, numero uno di preferenze in Consiglio, il nome del forzista potrebbe spuntare fuori in un'eventuale lista del presidente. Lo stesso dicasi per i fittiani di direzione Italia, con il consigliere Giacomo Gallone, altro recordman di preferenze, dato in pole position con un'eventuale conferma della candidatura dell'europarlamentare di Maglie, che favorirebbe, perché no, anche un nome legato alla segreteria cittadina di Fratelli d'Italia, guidata dall'ex consigliere Michele Iaia. Non bisogna neppure dimenticare i 5 Stelle, i pentastellati francavillesi potrebbero pure loro esprimere una candidatura da affiancare alla squadra di Antonella Laricchia. Tanti candidati, tutti papabili, certo, ma sai che frammentazione? Grazie.